Salve amici del Centro Medio Italiano, campo di alta pressione sull'Italia con tempo in prevalenza asciutto. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 8 maggio. Nubi in transito al mattino sulle regioni del nord, Sardegna e centrali tirreniche, ma senza fenomeni asociali. Sole prevalente altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutta la penisola con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito. In serata e notata si rinnovano condizioni di tempo asciutto da nord a sud con locali addensamenti e ampie schiarite. Da segnalare solo isolate piogge sulle Alpi occidentali. Temperature minime in aumento al nord e in calo al centro-sud, massime in rialzo o specie su tutti i settori adriatici. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.